Ciao, sono Frank Basilico e sto... siamo sempre io lui, siamo sempre io lui, eh, io Frank Ciccio del Wrestling Ciao, sono Frank Basilico e sto andando a Rapallo per IWI New W R Back in Town, me ne scusate, sono qui che ci ho avuto un attimo di immaginamento e facciamo un video c'è una coda mostruosa, non so quando arriviamo, se arriviamo, vuol dire qualcosa signor, signor abitro, signor Marinaro? Io saluto a tutti chi ci segue, che venga, che possa diventare il primo sport assoluto al wrestling, al palco, al calcio Sì, però sì, cioè, ma cara, ma se sappiamo anche com'è, sempre lui Va bene, dai, lo pubblicherò nei giorni dopo, quindi lo vedrete dopo Questa rarità, le autorità della IWI che stanno andando verso il palazzetto, non si vede più niente, siamo in galleria Ciao, eh, ci riprendiamo un attimo